Ciao ragazzi, sarò breve e intenso Proprio come piace a voi A parte gli scherzi, benvenuti nel video ufficiale Che riguarda il contest, il giveaway Di cui sicuramente avete visto il post Sul mio account, baria profilo Instagram E a cui vorrete sicuramente Partecipare. Sei qui per vincere una Fantastica try phone t-shirt di Palace Lo so, e allora ascoltami bene Cosa dovete fare? Cosa dovete fare? Dovete seguire solo tre semplici Passaggi. L'importante poi è che Li seguiate tutti e tre. Sono semplici Ma li dovete seguire. Non perderai perciò tanto Tempo. Al fine del video vi do anche dei Dettagli un po' più tecnici della maglietta E bla bla bla, però adesso Vi vorrei spiegare questi passaggi. Punto Numero 1. Riguarda Instagram Cosa dovete fare su Instagram? Dovete andare A mettere un bel mi piace al Post, quello ufficiale che ho Caricato sul mio profilo Instagram, di cui Vi lascio il nome qui sotto Ma che penso voi abbiate Già visto. Poi dovete commentare Sempre quel post Taggando tre vostri amici Reali, ovviamente. Se andrete a Taggare dei profili falsi Degli account non utilizzati O dei profili pubblici Non verrete presi in considerazione per il contest E voi direte Ma come cazzo fai a verificare che io ho taggato? Lo so perché lo farò io e quindi ci starò attento E fidatevi che è ben gulo E poi sempre su Instagram Cosa dovrete fare? Condividere quel post Farci se no anche uno screenshot a quel post Condividerlo nelle vostre storie E taggarmi Nella storia sempre utilizzando Chiocciola, Alessio, Sicurani Questo mi servirà a me per ricevere poi la vostra Storia dove verificherò che mi avete Taggato. È importante che voi non abbiate Il profilo privato. Se voi Utilizzerete un profilo privato per partecipare A questo contest io non potrò verificare Se effettivamente voi avete Diciamo caricato la storia E tenuta per 24 ore E quindi non vi posso prendere in considerazione Soltanto profili aperti Profili pubblici come si dice Come i banni pubblici insomma E questo era il passaggio numero uno Semplicissimo Cioè ditemi voi qual era la difficoltà Del passaggio numero uno Punto numero due Quale cazzo era il punto numero due ragazzi? Non lo so scordare Semplicissimo Dovete sia seguirmi sul mio profilo Instagram Sia iscrivervi a questo canale Cioè al mio canale YouTube Dovete fare queste due iscrizioni Barra follow Punto number Uno, due e tre Tre! Che memoria eh! Uno, due Nel passaggio numero tre Dovete semplicemente andare a commentare Questo video che state guardando In questo momento Cioè anche adesso Mettete in pausa Andate a commentare Scrivendomi Il vostro nome Instagram Con cui mi avete followato Con cui mi avete iniziato a seguire O con cui già mi seguivate E il vostro nome YouTube Con cui vi siete iscritti al mio canale Oppure siete già iscritti al mio canale Perciò dovete andare a scrivermi Questi due nomi Separandomli ovviamente Scrivendo Instagram Così YouTube Così Basta 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 Cioè non c'è veramente ad Basta Non vi chiedo un euro Basta È molto importante precisare che Qualora voi non seguiate Anche soltanto mezza regola Di quelle che vi ho appena elencato Questi punti che vi ho appena elencato Non potrò tenervi di conto Per l'estrazione finale Cioè non parteciperete al contest Da oggi Domenica 6 dicembre 2020 In cui il mio video è uscito sul canale Fino a venerdì 25 dicembre 2020 Alle ore 8 del mattino Potete partecipare a questo concorso Dalle ore 8.01 di venerdì 25 dicembre Qualsiasi iscrizione non sarà più tenuta di conto Quindi avrete questo lasso di tempo Per poter partecipare Circa due settimane e mezzo Sabato 26 dicembre ci sarà l'estrazione Farò un video in cui registrerò tutto E poi vi caricherò sul canale Ci sarà l'estrazione di questo contest Contatterò poi il vincitore sul profilo Instagram E la spedizione a casa sua Sarà totalmente a carico mio La maglia è la Palace Trifon Black Con i loghi rossi Sia sul fronte che sul retro Ed ha un valore commerciale di circa 80-90 euro La taglia è unica Ed è una size M Che è quella che sono riuscito diciamo A coppare al momento del lancio Sul sito web appunto di Palace Insomma ragazzi è un regalino Che vi faccio nel periodo natalizio Perché siamo tutti più buoni Se è passata una bella annata di merda E spero per voi che possiate appunto aggiudicarvela Lascia un bel like al video Ti ringrazio per il supporto Bella